Bene, cambiamo pagina. Territorio e turismo, temi importanti proprio per la nostra regione. Siamo andati allora ad incontrare su questi temi appunto Federico Caner, Assessore al Turismo di Regione del Veneto. Si delinea un nuovo orizzonte per i Colli Uganei, vista la recente consegna del dossier che candida i dolci pendì al programma Mab Unesco. Un'azione che avvia un processo negoziale che si concluderà nel 2024. 4 titoli incrociate quindi per quello che potrebbe essere un valore aggiunto all'intero comparto territoriale e turistico. Noi stiamo lavorando per far sì che anche i Colli Uganei diventino Mab Unesco. Noi abbiamo già 9 siti Unesco nella regione Veneto. Ormai il procedimento è a buon punto e grazie a questo nuovo inserimento noi possiamo dire che il Veneto è all'avanguardia anche da questo punto di vista. Nel senso che gran parte del proprio territorio, le parti più belle, naturalistiche, ambientali diventano patrimonio dell'Unesco. L'area proposta dal governo italiano quale riserva della biosfera interessa una superficie di 35.000 ettari coinvolgendo l'intero territorio dei 15 comuni del parco regionale dei Colli Uganei. L'importante è che cresca questa cultura a livello territoriale non soltanto da parte di chi fa turismo o ricettività ma anche dalle persone che ci abitano all'interno di queste aree. Ci vuole un cambio di mentalità perché il cittadino in primis deve rendersi conto che vive all'interno di un patrimonio dell'Unesco. Quindi bisogna avere conoscenza e rispetto del nostro patrimonio. Solo così possiamo pretendere che anche i turisti che vengono da noi possano capire che quel concetto di sostenibilità è importante. Se noi per primi non trasmettiamo questa passione, questo rispetto e cultura anche dell'accoglienza non possiamo pretendere che lo facciano gli altri.